Noi abbiamo giocatori veramente forti, l'ho detto tante volte, voi parlate di mercato, di quelli che devono arrivare, quelli che vanno ad integrare un gruppo che già è forte. È un aspetto mentale importante, giocatori, anche giovani, dite voi, ma si hanno un aspetto mentale di quelli non classici, canonici, uno che comunque mentalmente già è abbastanza concentrato, non è un problema di 21 anni, di più o di meno. Ma siamo partiti dalla Germania, laddove l'ambiente è tranquillo, si è potuto lavorare, sì, per campionato forse non tanto bello, ma poi dalle prime partite abbiamo cominciato a dare allenamenti, a cercare di sviluppare il gioco che noi vogliamo fare, occupare le posizioni come dovevamo, il pressing, insomma, tutto quello che in allenamento poi abbiamo deciso, abbiamo deciso di prendere in considerazione, insomma. Sì, l'ambiente è un ambiente carico, c'è tanta voglia di far bene, sicuramente ecco, siamo fiduciosi, dobbiamo lavorare, rimanere attenti, concentrati sempre, partita per partita, già per gli allenamenti, prima della domenica, ripeto, non ha senso secondo me fare troppe chiacchiere, ma fare il lavoro, fatto bene, un recupero, una posizione, l'aiuto del compagno, cambio di fascia, tutte queste cose che noi proviamo e riproviamo, sempre tutti gli allenamenti per poi magari provare a migliorarci, settimana dopo settimana, la domenica, ecco.